Vittorio Felti, poi torno anche da te Fabrizio, volevi rispondere alla Morani? Sì, molto rapidamente. Io non penso che le chiusure siano state determinanti, è la durata delle chiusure che è impressionante. È passato più di un anno e noi siamo qui ancora con le chiusure, mentre l'Inghilterra, sotto gli occhi di tutto, anche lei ha avuto le chiusure. Come? Però è riuscita poi a vaccinare tutti e adesso la situazione è migliorata, non possiamo negarlo. Poi quando si dice che se l'Europa non è in grado di comprare i vaccini, qual è l'alternativa? È solo quella di dire a ciascuno Stato di procurarsi i vaccini sui mercati internazionali con i soldi in tasca. Che poi esistono i ricchi e i poveri, questo lo sappiamo, ma esistono da sempre, come diceva lo stesso Gesù Cristo che non era l'ultimo arrivato. Io penso per esempio che in India, che è un paese abbastanza povero complessivamente, le cose non stiano certo andando bene, ma chi fornisce a loro i vaccini? Nessuno. E lo stesso vale per il Brasile. Insomma la situazione è drammatica in tutto il mondo. È chiaro che se l'Europa è incapace di andare anche a fare degli acquisti di dosi di antidoto, dobbiamo arrangiarci noi. Ma è un ragionamento che non è difficilissimo, è un ragionamento direi puerile, ma non esiste alternativa. Non è che siccome poi c'è la guerra fra ricchi e poveri, allora moriamo tutti. Non è mai stata così. La storia dell'umanità ce lo insegna. Allora, scusa, sento un attimo.